E uno dei temi locali al centro del dibattito politico di questa campagna elettorale è sicuramente l'avvertenza Castelfrigo. C'è stato un altro giorno di blocco davanti all'azienda per i 75 lavoratori licenziati, mentre dicevamo il conflitto politico e anche sindacale attorno a questa avvertenza si gonfia giorno dopo giorno. Allora facciamo il punto. L'avvertenza Castelfrigo ormai è anche un affare politico e non da oggi, quando ha avuto luogo l'ennesimo presidio con blocco degli ingressi da parte dei 75 licenziati lo scorso 29 dicembre. E mentre ci si interroga sugli strumenti normativi che cancellino una volta per tutte le pericolose cooperative spurie, CGL e CISL rimangono in aperto scontro sulle strategie diametralmente opposte adottate sin qui. Linea dura per la CGL, mentre i colleghi confederati sono scesi a patti con l'azienda di Castelnuovo. Le parti confutano tutto, numeri, modi e prospettive, mentre l'agenzia Sapiens lamenta di aver teso una mano ai lavoratori estromessi senza ottenere dalla CGL alcuna risposta. In realtà questi lavoratori hanno dato la disponibilità a lavorare presso Castelfrigo. Quelli che hanno fatto i colloqui presso l'agenzia Sapiens, che non sono ancora tutti, è solo una parte, anche perché per fare questi colloqui si richiede tempo e l'agenzia stessa ci dà delle giornate di apertura in cui effettuare i colloqui. Quindi stiamo parlando di almeno 30 persone che comunque tra questi 75 hanno dato disponibilità, verrebbero a lavorare e che in realtà non sono stati chiamati perché non sono graditi. Noi non abbiamo i dati precisi perché nessuno ce li fornisce e quindi i nostri dati sono i lavoratori che vediamo tutte le mattine venire a lavorare. Ieri mattina i 75 hanno visto dei lavoratori che erano vecchi tempi determinati, che non centravano niente con la procedura di licenziamento e quindi hanno denunciato la cosa. Quindi Castelfrigo vuol prendere quelli che non hanno protestato, vecchi lavoratori, ma sicuramente non i 75 che avevano detto qualcosa contro le false cooperative. Il reperimento di un nuovo impiego rimane il problema più immediato, ma non meno grave quello secondario. Le sanzioni piovute sui lavoratori delle copspurie per irregolarità attribuite a loro per via di cavilli presenti nei contratti che i lavoratori, quasi tutti stranieri, non hanno compreso al momento della firma. Ci saranno ancora lunghi anni di strascichi anche legali. Castelfrigo ha deciso di non trattare, di andare per vie legali, quindi questa è la strada che si vuole percorrere in maniera folle.